Ciao, sono Bruno Simula e vengo dalla Sardegna. Ho iniziato ad avere problemi di denti tanti anni fa e non riuscivo a risolverli. Sono rimasto senza denti, avevo 13 denti. E' iniziato la parodontite, quindi stavo iniziando a perderli. Ho saputo della clinica del dottor Palmas tramite internet, io e mia moglie, e abbiamo visto che un percorso che si poteva fare. Lei ha avuto il coraggio, io ho avuto il coraggio per lei e lei ha avuto il coraggio per me. Siamo venuti qua e siamo riusciti a risolverci i problemi che avevamo. Come li ha messi, mi sono trovato subito bene e non ho avuto problemi con i provvisori. Adesso ho messo i definitivi e sto bene. Riesco a parlare bene, riesco a sorridere e riesco a mangiare. Questa non è una passeggiata, però si può affrontare. Non è una passeggiata, perché è un percorso difficile, però si può fare. Sono riuscito a farlo io, riuscito a farlo mia moglie, si può fare. E te ne troverai bene.